Il disastro ambientale generato dal fenomeno Terra dei Fuochi, il ruolo che potrà ricoprire l'area radiologica rispetto a tale tematica, è stato al centro del Forum Nazionale Salute dell'Ambiente, Ambiente per la Salute, che si è tenuto al Castellellovo di Napoli, promosso dal Collegio dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, presiduto da Franco Ascolese, in collaborazione con la Lega Italiana Tumori. Un'alleanza tra il cittadino e i tecnici di radiologia. La radiologia è in espansione in una forma incredibile. Ci troviamo davanti a delle grandissime innovazioni tecnologiche. Queste innovazioni tecnologiche devono essere messe a disposizione della cittadinanza. È il tema che era appunto quello dell'ambiente in cui il nostro ambiente, specialmente nella provincia di Napoli e di Caserta, mostra, nell'ambito dei lavori che abbiamo ottenuto qui, delle gravi problematiche territoriali. Io poi, voglio dire, questo convegno lo abbiamo organizzato noi come collegio in collaborazione con la Lega Italiana per la lotta ai tumori. Nel corso del dibattito è stato sottolineato che oggi è possibile offrire un contributo concreto in materia di screening, diagnosi e radioterapia sui pazienti affetti da patologie tumorali e provenienti dalle province campane interessate. C'è la possibilità che la terapia contro i tumori in ambito oncologico può essere effettuata attraverso sia chemiombolizzazione di medicinali. Cosa significa? Significa che probabilmente invece di fare l'embolizzazione, cioè invece di fare la terapia oncologica da un punto di vista generale, vanno attraverso dei cateteri, vanno direttamente nel luogo dove c'è il tumore e possono, voglio dire, dare e lì mettere, fare la loro terapia. L'auspicio è di effettuare investimenti economici per consentire una più efficace indagine sanitaria. A oggi è bassissimo il rapporto tra il numero dei malati di cancro e di macchinari a disposizione dalle strutture sanitarie. Ma soprattutto occorre incoraggiare e sostenere un'adeguata conoscenza e pratica clinica per il trattamento di tutti i particolari tipi di cancro, nonché l'istruzione e la formazione di tutti gli operatori professionali, non solo sanitari coinvolti nella cura del paziente.